Prova importantissima, Catanzaro senza Morici, però Barcellona sempre più convincente. Catanzaro era un campo difficile, ha dimostrato anche la prima partita e ha dato filo a torcia al Cassino. Certo, Morici era una pedina importante per loro e è mancata, però noi siamo stati bravi sulla loro aggressività. Noi siamo ancora in fase di costruzione, 4-5 giocatori nuovi dallo scorso anno, però abbiamo dimostrato che comunque siamo una squadra lunga e possiamo giocare in 10. Con moderazione dove può arrivare Barcellona? Intanto pensiamo partita dopo partita, abbiamo giocato con Palmontone che era dalla carta che doveva salire, insomma abbiamo fatto una buona prova. Il campionato è ancora lungo, pensiamo partita per partita e vediamo quello che succede. Catanzaro è una buona squadra, intensa, anche loro lunga, sì mancava il giocatore fondamentale, però hanno tenuto botta, sono rientrati e può far bene.